Ascolto solo tre di voi Però ragazzi senza offese Senza insulti Voglio darti dell'opinione Di altri paddare che magari Sanno meglio di me Anzi mi farbbe anche piacere Giusto Ciao Cennica Buongiorno Tutto a posto? Un po' strano Perché ho sentito delle cose un po' ambigue Da uno che gioca a 13 anni a COD col pad Dire alcune cose Mi ha fatto storcere un po' il naso Posso avere un po' di spam di Nico Castix Parola Nico Castix Non capisco perché Tu abbia fatto questo Perché secondo me di base non sareste scarso No infatti non l'ho mai fatto Questa è la tua giustificazione Non mi va a litigare Non voglio neanche Comunque io non l'ho mai fatto Non ho mai citato Comunque io ti parlo Da persona Ho fatto dei tornei Ho fatto comparative per 10 anni Sì la sala So tutto quanto Quindi ti parlo per esperienza Perché penso di sapere Ho dato forse metà della mia vita A giocare a questo gioco E penso di sapere abbastanza Di meccanica Soprattutto di pad Che probabilmente Kai Avendo giocato da mouse e keyboard Non sa Perché alcune cose sono diverse Parto col fatto che Il primo discorso che hai fatto Era sulla sensibilità Dicendo che sì Se giochi da un anno Con una sens Più confidence Sei più confidence Giusto è normale Questo è vero Ma questa cosa Non è Non è Ha un limite Perché nel momento in cui È risaputo Qualunque paddaro Puoi chiamare qua C'è anche Zunks Puoi chiamare anche Penso Niko Blade Puoi chiamare Vortex Vabbè Quelli che conosco di più Quelli di cui ovviamente Mi firo di più Si potrà dire che Usare una sens bassa È la sens che viene utilizzata Da tutti quanti Perché è una sens Più facile da utilizzare Una sens bassa Qualunque Ok Sì Sì Sette È una sens bassa È più facile da utilizzare Perché ti permette Di sfruttare di più l'automira Ti permette di essere più costante Sì è l'ase È praticamente un angle È un angle Ok sì sì Chiaro chiaro Ma in realtà Il vero trucco della sens bassa Non è quello che dici tu Non è quello che dici tu Di flickare O comunque che si può flickare Perché questa è È un po' una cazzata Nel senso che un flick Ha un limite Col pad Con sensibilità bassa Perché col pad Puoi flickare Ma non come lo fai tu Perché nel momento in cui Uno gioca a code È risaputo Questa cosa qua Su code 4 Ah su code 4 È stata cambiata l'automira Che era leggermente diversa Sì Poi nei code Se lo stia volando Ok Col pad tu più ti muovi Più l'automira aumenta Nel momento in cui Tu stai in aim down sight Quindi tu stai mirando Sì sì Più passa il tempo Più l'automira diminuisce L'automira diminuisce Lo so Aspetta fammi parlare però Le momenti Quante ne stavi? Mi dice che il flicker del pad è forte Soprattutto Con sensibilità basse È una grandissima cazzata Perché nel momento in cui Tu hai due persone davanti L'unico modo Per utilizzare sensibilità basse E per abusare Di questa sensibilità basse È di utilizzare l'aggancio Quindi di agganciare Una persona a destra Fliccare Togliendo la mira Nel frangente in cui Ti devi muovere Sull'altro E poi rimirare Quindi questa cosa del flick È qualcosa che non esiste E che appunto Nelle clip Appare che È tutto molto ambiguo Perché per esempio Nelle clip Quello che succede spesso Io A me è stato A me è stato chiesto un parere Giorni fa Dopo aver sentito la live La notte Ho preso un tuo vod A caso Letteralmente a caso E la prima cosa che si vede Che è molto ambigua Che ho già detto Anche agli altri Nelle live È che Quello che si vede È che le tue hitbox Non sono fluide Come qualunque stream Degli altri Quando tu spari Semplicemente Sono come lagganti O comunque Ha una sorta di delay Forse Forse Non lo so Forse È la registrazione Non è la registrazione Non è la registrazione Mi potevi dire Forse Se tutte queste clip Erano killcam Potevo dirti Che fosse È lagg Una sorta di Dacing del server Come potrebbe anche Succedere in qualche kill Ma non succede Costantemente Sempre fisso Poi Kai Ti dico un'altra cosa Potresti mettermi Il fighter La doppia sulle scale Che quello è molto Molto importante E penso che dica tutto Anche quello Con la stand Quello con la stand Quello con la stand E poi mettimi Anche l'ultimo Dell'headshot Che quando tu hai detto Del discorso Sei biffle davanti Che tu hai risposto Spari in testa Non è vero Vabbè Lo volevo triggerare Di dire qualcosa No 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 Sì sì Volevo puntualizzare Volevo puntualizzare Un classico Un classico Netti questo fight E bloccami qua Blocami qua Ok È risaputo che Su code Ok Ah ho due cose da dire Prima di questa cosa Quando tu hai detto Che io faccio tre ore bot Per allenare il centering E tutto quanto Quella È No 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 Oltre a questo Questa è un'altra Un'altra grandissima cazzata Perché fare bot Col pad È Una cazzata Nel senso che serve Solamente alle persone Che iniziano a giocare all'inizio Per sviluppare La memoria muscolare Dopodiché Ti serve solamente Per riscaldare Giusto Non per altro Solamente per questo Lo faccio anche per questo E oltre a questa cosa Che hai detto del centering Che ha fatto ancora più ridere Onestamente È che Il centering Non lo impari Sparando contro i bot Perché il centering Deriva dall'esperienza Che fai giocando contro Le persone che si muovono E il centering Deriva da timing E deriva da esperienza Di fight che perdi Contra persone che si muovono Nella mappa Quindi sparare contro il bot Non ti aiuta a fare centering Uno Oltre a questo Altro discorso molto importante Su code Esistono delle zone della mappa Soprattutto col pad Dove le mazze non esistono No Tra questa qua Ci sono delle zone della mappa Che sono più forti di altre Quindi nel momento in cui Tu sei qua E stai per faiare una persona Lassopra Dove come succederà qua adesso È già una posizione di svantaggio Rispetto a quello che scende su Appunto Appunto Io non Non pensavo neanche di vincere On fire On fire Nel momento in cui Quell'angolo Che è il camera glitch Molto probabilmente Ti sfondo Padaro Parla il padaro Non è mecapparo Come me di merda In posizione delle scale Dove penso Zanks possa anche confermare Perché qua L'automira È praticamente 100 100 vero ragazzi Sia perché c'è il camera glitch Sia perché è una posizione di merda Detto questo Fai andare E bloccami Letteralmente Un secondo dopo Che flicca Sulla persona Che lo aggancia In maniera molto ambigua Vai 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 ancora Vai ancora Vai ancora Falla andare Falla andare Ecco tipo qua Allora qua per esempio L'automira Di solito È sempre pari a zero Avete lasciato il tento kill È stato qua anche scandaloso Hai sparato il pavimento E l'hai ucciso Sì Anche questo Forse Forse Perché ha dato l'HS Non Mi stai dicendo delle cose Questi forse 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 Che non ci credi neanche tu Alla fine Cioè nel senso Io posso dimostrare Quello che vuoi Ma che vuoi Ma sai perché Mi fai triggerare Più che altro Perché dici delle cose Che Boh personalmente Penso che come me Come altri che hanno giocato A COD per anni Cioè Sono cose che non esistono Perché sono meccaniche Che non esistono nel gioco Sono meccaniche Che non stanno nel cielo In terra È come dire Posso volare senza un aereo No non puoi Cioè se vuoi dimostramelo Cioè dimostramelo Se puoi spiccare il volo No no non farlo Mi dissocio Non provare Cioè nel senso Capisci che se mi stai dicendo Delle cose che non esistono proprio Quindi Hai poi un'altra cosa Oltre a questa cosa Come ti ho detto Ho fatto competitive E poi il covid E tutto quanto Cioè io ho fatto competitive Con gli altri Se mi decidi aver fatto competitive Probabilmente avresti fatto wager O qualcosa del genere E giuro Non ho mai sentito Minimamente il tuo nome In niente Nessun torneo minore Né niente Sai quello è il problema Che tutti giocano Quando c'era il covid Sentire uno dire Non potuto giocare Che c'era il covid È la cosa al contrario Il covid c'è da due anni E anzi Probabilmente Il fatto che ci fosse Il covid Avrebbe potuto dargli più opportunità Perché paradossalmente Quando c'erano LAN La difficoltà di andare in LAN Era avere i soldi Per andarci Trovarci il team per andare Quindi il fatto che ci fosse il covid Ha aiutato alcune persone Di più ad emergere Minchia poche volte Che si play Comunque Fire Fai a start Mettimi l'ultimo fight Sopra Contro Biffle Comunque Io non ho mai avuto La connessione Non ho avuto La connessione Per giocare Mettimi il fight Contro Biffle Sopra un attimo Quindi Ho giocato a 100 di ping Per Boh Forse una vita Due mesi fa Un bot di scuse Te lo giuro Basta Però che botto di scuse Zio Vuoi vedere Vuoi vedere La mia DSL Vuoi vedere Stiamo analizzando il gameplay E quello che stiamo vedendo Ok ok Ma lo sai che facevo Le stesse identiche cose Con la connessione Che avevo prima Eh l'ho capito Ma se cheat E le vuoi fare Con quella connessione Che vuoi Ma che cheat Ma perché Ma perché questo Ok Qua contro Biffle No Tu hai detto Che spari in testa Questo pelato qua Lo immaginavo Come Biffle La cosa più assurda Di quando uno gioca a code È che non pensa Dove spara Perché in realtà Sparare in testa Non serve perché Il moltiplicatore È talmente tanto basso Che non ti dà un vantaggio Come magari su Halo Sì al petto è importante Spari al petto Esattamente come hai sparato Poi non lo so Non so Ma tu per quello No 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 Ma per quello Io le ho fatto questa domanda Dove li spari È lui che ha risposto Li sparo in testa Capito Con 13 anni di differenza Con il padre È lui che mi ha detto Sparo in testa Poi lui ha chiesto Perché non spari in testa Allora Ha detto non lo so E allora cosa vuol dire Giusto? Sì un'altra cosa Che ho annotato Poi un'altra clip È sotto Quella La clip è sotto Dove tipo Non toglie la mira Perché vuole fliccare Un nemico che slida Vabbè Di solito non lo segui mai Ti ricordi qual era? Sì sì Quella sotto prison Sì Che fa headshot E dopo flicca La mira in aria Come per fare apposta Per vedere che ha fatto headshot dopo Però Ok tipo Qua no? Zanks puoi fermare anche tu Qua io stacco e attacco la mira Anzi vabbè In realtà In realtà Pensa che la stacco pure con 20-21x Per farti capire probabilmente Qua no? Vai lasciala andare Mi devi fermare dopo Quando esce l'headshot Perché Giuro Qua esce l'headshot Ok Qua lui è morto Ok Fai andare? Sì 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 Fai andare ancora un po'? Ah no perché sono in ritardo Davvero dalla live Scusami Qua esce colpo alla testa Ma hai sparato i piedi E dopo la mira va in aria Cioè ma l'hai fatto per mascherare O? No 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 L'ho fatto io L'ho fatto io Giuro su Cristo Ah ok Per mascherare quindi? No no Non l'ho fatto per mascherare L'hai detto L'ho fatto io Ma l'hai fatto tu L'hai fatto tu No l'ho fatto io per sparare Perché non pensavo morisse così velocemente Ma come è possibile che hai fatto E hai riuscito a sparare alla mira? Non lo so Perché ho fatto Dillo ai programmatori che fanno cagare Che cazzo Che non sanno fare un gioco Mica ma aspetta Allora c'è Activision Che ti ha messo qualcosa dentro Che tu non sai Perché è impossibile Mica dovrei andare a guardare tutti i miei vod E vedere quando sparo i piedi E faccio È impossibile Ci sono tutte queste clip Zì che Povero Cristo Che ha giurato su di lui Che ci devo dire È impossibile Non te lo so dire Hai 60 di ping Non c'hai 200 Ok però Non lo so neanche io Perché escono questi headshot Non lo so Ve lo giuro Bella risposta Che ti devo dire Non lo so neanche io Non lo so neanche io Si vede che il campo natale è sceso dal cammino Sì Ok Probabile Puoi mettermi l'altra dove spara Dove fa la doppia qua Sempre in questa zona Kyborg Un'altra Scusami So che ti stress No ma per me è importantissimo Sentire anche dai player Molto più forti di me Non so se questa qua Dovevo fare dopo la doppia con l'Helowen Ok vabbè questa Ecco qua hai detto Una cosa che mi ha triggerato un sacco Perché hai detto che il centering Il centering non è tenere il nemico Dentro Il centering Il centering è quando Il frame Dove essere il nemico Sì Ma perché hai detto il centering Cosa c'entra il centering Sì ho sbagliato Mi sono confuso Non è Cioè È difficile Al polo Inventare le cose Ti capisco Ok qua Ma vuoi Ma vuoi Allora io ti ho detto Faccio tutto Giocherò da console Guarda Leo guarda Farò le stesse identiche cose Ascoltami Ascoltami Non voglio che 19 anni farò qualunque cosa Ascoltami Leo Non voglio che Può sembrare queste cose Che siamo in tre Che ti attacchiamo Ma in realtà Non siamo in tre Che ti attacchiamo Ti facciamo le domande Per capire Cioè capito Cioè le domande Sono da due Paddare E vabbè Io non ti faccio più domande Perché abbiamo già parlato Ma non siamo qui Per attaccarti Capito Per capire Per adesso Una risposta Non sono domande Ho detto Non lo so Chiedete A quello Al sviluppatore Dell'Activision Perché mi entrano I colpi così Non lo so qua Non lo so là Vabbè Qua comunque Quello che volevo dirti È che Stai lasciando Le hitbox Tutte storte Un po' Non lo scambico Nel mio gioco Le hitbox Non sono così Di solito Vanno fluide Probabilmente Sarà la linea È molto strano Il fatto che tu riesca Tipo a sparare Già a sinistra Del tipo E c'è quella colonna In mezzo Non lo so amico Cioè qua Io la seguo Io la seguo Semplicemente Con un analogico Basta Sì no ma L'automira Non la usi Perché è incredibile Nel senso che io Quando sparo alle colonne Giuro Pesi del mio dio Quindi non lo so Probabilmente C'è qualcosa di diverso Nel senso Vabbè Qua dopo continuo L'ammazzi Le hitbox strane La cosa più assurda È che Questa automira Sembra che funzioni Sempre a te Indipendentemente Da dove ti trovi Indipendentemente Da la posizione In cui sei Quindi È molto strano È molto strano Non lo so amico Non lo so Non lo so Non hai Non ho sentito Nessun argomento Ragazzi Valido Sincero Magari 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 ci sbagliamo Tutti noi Ma non ci sono Argomenti Allora Allora È un discorso Che ho fatto anche prima Perché stavo guardando È che su code Il desync esiste Si Si presenta Magari anche spesso Dipende molto dalle lobby Il fatto è che qua È un desync Mi sembra un po' troppo esagerato Perché mi sembra un desync Costante Finso È esatto Troppe Quindi Boh Vabbè Poi Vabbè Kyber ti scrivo una roba Però non so se vuoi dirla Magari è lavoro in più Guarda Instagram un attimo Lavoro in più Questo non è lavoro Questo è Felicità Nico Questa è la mia felicità Passerei giorno e notte Qua davanti Così Te lo giuro Mi sento una parte Della community Ragazzi Mi sento Me l'hanno detto Me l'hanno detto Tu sei qui Però Lo sei già Ok Non dico nulla No no Lo so già Niente raga Cioè io Non lo so A me in parte dispiace Perché Credo che Per tutte queste clip Di base Nel senso Non Cioè non saresti uno scarso Perché per come ti muovi Cioè il movement ce l'hai Comunque Però Boh Forse hai sgravato Chi troppo vuole nulla stringe Io non ho mai usato niente appunto per questo Non l'ho mai usato Però Non lo so Perché Vuoi fare un picco Io faccio far tutto Faccio fare un pc check da qualcuno Faccio fare qualunque cose Ma tu ora potessi fare anche un pc check Potessi averli Ok 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 Faccio fare un pc check Faccio fare un pc check E poi Gioco Gioco allo stesso modo Ti faccio vedere Non è un problema Ma probabilmente non giocherai allo stesso modo No no Chi te lo dice Ma chi te lo dice Ma chi te lo dice O comunque In ogni caso Finché code in questa situazione Non ci sarà mai la certezza al 100% Amico mio No Eh sì Lo dico io Perché Se mi fai fare un pc check adesso Ma quindi tu hai programmato l'anticit Se me lo dici tu Perché No Non ho mai fatto Non capisco Anzi l'informatica Quindi non mi chiederai niente E allora perché mi stai dicendo così Scusami Ti dico che faccio No Ti sto parlando del gameplay Non me ne fico Eh vabbè Ti faccio vedere Ti faccio fare il pc check Ti faccio vedere Che non c'è niente Ti faccio vedere Che non c'è nulla Sul pc Lei in questo caso È correlato dal fatto Che scala il tuo pc Cioè non è che giochi dal mio pc O giochi dal pc di kyborg Ti faccio vedere Che dal pc tu Farò le stesse identiche cose Ho il computer di kyborg Qualunque cosa Posso delle stesse cose Sparare in petto nel pc di kyborg E farei Ma chi te lo dice a te Che Sparo al petto di kyborg Solo tu Solo tu dici questa cosa Ma perché Zì Cioè Ma Posso fare un game adesso E farvi Leo Io voglio Voglio quel secondo lì Quando capisci Quando capisci Che è inutile quello che sta dicendo Cioè Lo devi capire Ma che è inutile Perché Io voglio dimostrarvelo Non è che mi metto a dire una cosa Che non ho Ma te l'ho detto Che appena inizia a streamare Stai già dimostrando a tutti Quello che stai facendo Non c'è No Non c'è un dimostra prima O un dimostra dopo No Io te lo dimostro anche in questo momento Cioè Non mi interessa Io ti faccio vedere un pc Ti faccio fare il pc check adesso E ti faccio Ti dimostro che non ho niente Però le possiamo fare anche un pc check Sul pc di Dario Martis Poteva magari cittare fino all'altro giorno Cioè Non ha senso Capito Te lo faccio fare adesso E faccio il game dopo E ti faccio vedere che faccio le stesse identiche cose Sì ma Non Datemi la possibilità Di dimostrarvi che non ho niente E non Non mi metto a dire Non mi metto Non mi metto Non mi metto a dire Posso dirti una cosa Posso dirti una cosa Dario Martis sei il prossimo eh Non lo so Potevo in parte anche tipo Crederti Però per come mi hai risposto Sulle meccaniche del gioco di code Dicendomi che giochi da 10 anni Da 13 anni Ho capito che non è vero Ma non è vero Vuoi vedere la copertina di Mv2 C'ho il disco Sì ma Vuol dire Cioè Se tu mi vieni a dire delle cose Che non Cioè Se tu giochi a code da 10 anni E 2 più 2 fa 4 matematicamente Non mi puoi venire a dire che 2 più 2 fa 5 Capito amico Cioè È questo il vero discorso Cioè Se tu mi vieni a dire delle cose Che non esistono Meccanicamente del gioco Che non ti portano un vantaggio Dopo tutto quello che ho visto adesso Non 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 Cioè Capisci che non ci sta Non è Non va così Non funziona così Chi non ce l'ha la copertina di Mv2 Ragazzi Tutti cittano Questa è la scuola Leo Leo dai Onesto Zì C'è onesto Non posso Non posso dire una cosa che non ho mai fatto Non posso dirlo Non è giusto Non mi sembra Non posso farlo Non si può fare Beh facciamo C'è una cosa Chi dice che C'è una cosa Facciamo un esempio No Tu giochi un torneo contro la gente E poi ti puzza uno No Cioè può essere così una situazione Che ti puzza uno di qualcosa Sì ok Le guardi il VOD Le guardi il VOD No Così normale Vedi una cosa del genere Che cosa pensi Devo dire Prima di tutto ovviamente Mi si storcia il naso Ovviamente È normale Ok Poi che ti devo dire Mi guardo i VOD Vedo se lo fa sempre Ok Poi Mi guardo le stream Vedo Inizio a fare qualche clip Controllo Guardo Poi Quello che abbiamo fatto noi Poi Gia Kyborg Gia Kyborg ovviamente Giusto Quello che hanno fatto Inizia a chiedere a qualche top player Ok Ok Fatto Ho fatto Poi Tanti Poi Ok Già fatto Poi Quindi noi abbiamo fatto la procedura Tutto Cioè tutto Pure te sei d'accordo Che è giusta Però Secondo me sì Questo che hai detto adesso Non c'è il controllo del PC Capito Perché non c'è il controllo del PC Ma perché l'hai detto L'hai detto che Anche per te è una cazzata Zì Dai Sono passati 5 giorni Che cosa devo controllare dopo 5 giorni Ti voglio far vedere Ti voglio far vedere che non ho nulla Ti voglio far vedere che non ho nulla E ti faccio fare Ti faccio un game in questo momento E ti faccio vedere che non ho niente Ma nessuno vuole vedere il tuo gameplay Tu adesso stai semplicemente No io voglio dimostrarlo Non mi interessa Tu stai tirando l'attenzione su di te Così la gente va a vedere Voglio tirare l'attenzione di nessuno Voglio togliermi queste inutili accuse Ma non sono E rovinarmi la reputazione E voglio rovinarmi la reputazione Non sono inutili Non è che ti Ti accusano Perché non ho niente Raga Ma secondo te A me mi conviene accusarti Che non ci ho manco giocato contro di te No A Predax conviene accusarti A tutti quelli che mi hanno mandato la clip Conviene accusarti Ma non lo so Forse mi ritengono un disturbo nel loro privato Ok altri 5 top players in Italia A cui è stato chiesto Conviene accusarti Ma perché te accusano allora? Ne so Che ne so Non lo so Sarò un problema Che ne so Questo è un problema Sarò sus Sarò sus Non lo so Ma è giusto Ma allora Quello che dico io Ma se quello che dico io Se tu mi rispondi In determinati modi Su delle meccaniche Cioè se tu prima mi avessi detto Eh no sì Uso l'aggancio Non posso viacare la sensi bassa E così Cioè Poi mi sarei anche fidato Però te l'ho detto Cioè è come Si è bloccato il pc Se è un medico Minchia che non è un medico Capito? Cioè è un qualcosa che non esiste È qualcosa che non può funzionare Quindi per questo Mi evidenzia Cioè mi evidenzia un fatto Che tu abbia fatto delle cose Che non sappia neanche tu Come hai fatto Perché realmente tu non lo sai Ok E quindi è così È così Sì purtroppo E ti roletto E mi dispiace anche Perché comunque Secondo me di base Cioè Adesso si possa citare L'unument Adesso si possa citare Su alcune cose Cioè di base Molto probabilmente Sarei citato anche Un buon player E non capisco Perché Boh Ha voluto fare questo Nel senso Nel senso Perché ora Ma Ora anche se tu puoi giocare Queste clip Sono talmente tanto esplicite Purtroppo Ok ok Va bene Ok Non ci puoi fare nulla Brother Perché purtroppo Tutti quanti Anche noi pensavamo Che usciva l'anti cheat Era tutto quanto pulito Il gioco Invece no È una merda E questa è colpa Degli sviluppatori È colpa che Probabilmente Neanche colpa loro Perché Fino a quando siamo passati Da pc Il pc è così Ed è una merda Sotto questo punto di vista Sui proi sei contro Però Boh Onesto Secondo me Qualunque ragionamento Tu ora voglia fare Provo per come risposto Provo per le risposte Che hai dato Che sono delle risposte Non soggettive Sono risposte Oggettive Non sta in piedi nulla Non può stare in piedi niente Non so Non so che dire Ragazzi Io Boh Più di dimostrarvi Che non cito Vi faccio fare un pc check Mi faccio qualche game Vi faccio dire Che faccio le stesse identiche cose Non posso fare nulla Ragazzi Questo vi posso Vi far fare E dimostrarvi Che non ho niente Ma alcuni La maggior parte delle persone Diciamo che è arrivata Anche con il covid Quindi non ha Esperienza così tanta Non fa quelle ore Che facciamo noi Sul gioco Magari per alcuni Non c'è Non c'è niente di strano Per quello siamo noi A spiegare Sta roba Molto importante Sta roba Anche se è lunga Anche se Perché non Non hai disposto Alla mia domanda Secondo te una cosa del genere È importante per la community Fincera No non è importante così Ma questa è iterare su di me No non è hating Chi ti è iterato Chi ti ha insultato Chi ti ha offeso No chi mi ha insultato Un po' tutti Sai com'è Un po' tutti chi Instagram Madonna Le mie chat sono piene Di insulti Ma quelle sono tue cose private Io come faccio a sapere Quanto in realtà È per colpa tua Colpa mia Perché È per colpa tua Che hai duemila spec Che mi sono detto persone Che Questo non solo Mi ha aspettato Questa è la community Capito Che viene qua Per vedere una cosa nuova Voglio dimostrare anche Che alla community Io non cito E far vedere che Non Faccio fare il pc Check in diretta Con te In live E faccio qualche game E faccio vedere Che faccio delle stesse Identiche cose Ti hai già risposto a questo Sono già passati 5 giorni È inutile controllare il pc Ma che cosa Che c'entra Faccio le stesse identiche cose Perché non ho mai citato Quello è il problema Ma non è una scusa caro Non è una scusa È la dimostrazione Che non cito Punto Ma è già la dimostrazione Che hai citato Che senso ha Dimostrare che non cito No non ho mai citato Quello è il problema E faccio le stesse identiche cose Fidati Beh sono le stesse argomenti comunque Non è che cambia Comunque Io speravo che magari Riesce a darmi spiegazioni A ogni kill Che ti ho fatto vedere Cioè Su ogni kill Tu mi dicevi Non lo so Non mi chiedere Kaito Cosa ne pensi Guarda questo track Lo fanno tutti dai Con il pad Va bene Infatti ieri sera Glielo ho detto Sì mi ha detto Zax E delle clip normali E delle clip che Non hanno senso Giusto Io le ho messe tutte insieme Vedi che sei sempre A livello altissimo Del game Capito Altissimo Cioè queste cose Ti succedono una volta È un player normale Una volta come a ieri A Zax È uscita una clip assurda Cioè ma una volta A settimana Ma se hai un certo livello È ovviamente È normale Sì ma Zax Non spara a piedi Le entrano in testa I colpi E poi lo capi Cioè che ti devo dire No non capita Non capita Sì Se qualcuno mi ha messo Il cheat da remoto Non lo so Non so se si possono fare Non so se si può fare Non so se si può fare Non l'ho mai dato a nessuno Magari hai usato Unlocker L'hacker No 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 L'hacker è mai usato Mai usato Mai usato Allora Cosa hai usato di strano Che ti hanno hackerato l'account E ti hanno messo i cheat dentro Cosa hai usato Non ho mai dato nulla a nessuno Il pc è mio e basta Il cheat da remoto Cosa cosa hai detto Non farò Ne sei convinto Ma se te lo stai dicendo Sono convinto Non sto parlando a cazzo Guarda qua Come fai a ripetere Una cosa del genere Cioè Queste tre kill qua Una dopo l'altra Ma sono sicurissimo Io ci scommetto tutto Faccio le stesse identiche E solo tu ci scommetti Perché non l'ho mai citato Ma perché non mi volete far giocare Questo voglio capire Ma tu puoi fare quel cazzo Io voglio dimostrarlo Voglio dimostrarlo Ma nessuno te lo vieta Di non giocare No voglio farlo davanti Alla comunità italiana Come dici tu Guarda ti dirò Non avrai il ban su twitch Non avrai il ban su activision Potrai fare quello che vuoi Puoi continuare a fare Quello che vuoi Come tutti gli altri hanno fatto Alcuni hanno smesso di streamare Alcuni hanno smesso di giocare Come hai fatto tu Tu l'hai fatto per quattro giorni Perché ti sei cagato addosso Posso dire la mia No No mi sono mai cagato addosso Cioè streamavi sempre Cinque giorni fa Quando sono arrivati Queste accusi Anche da me No Cioè queste cose Queste clip Hai smesso di streamare Per quattro giorni No No ho smesso di streamare Perché tornavo da lavoro Stanchissimo E non avevo le condizioni Di streamare Giusto Non hai fatto nessun torneo Nessun pubblico Nessun Cioè Proprio zero Non avevo le condizioni Proprio nell'esatto momento Dove tu devi provare alla gente Devi far vedere le prove Che tu non citi Ho streamato lo stesso giorno Sei sparito per quattro giorni Proprio in quell'esatto giorno lì Giusto Ok Ma queste clip Sono troppe Per essere casualità Poi anche Cioè Cioè nel senso Non lo so bro Cioè È tutto È tutto troppo È tutto troppo E Te l'ho letto Le scuse che hai dato Non sono scuse Che esistono Per come funziona il gioco E qua z Se decidi di essere una persona forte Non è che mirando Quello dietro No no Ho mirato quello dietro infatti Quello è il Si blocca la mira Si blocca la mira appunto Si blocca la mira con la scivolata e il salto Lo sai meglio di me forse Quando fai lo slide e poi salti Si blocca la visual In questo caso In questo caso Te le bloccherebbe a sinistra Non a destra Perché lo se l'hai fatto verso sinistra Eh raga Io Non 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 Io dimostro tutto Cioè Voi la vostra scusa è che io Mi pingano col nemico e mi si locca là No no Non la vostra scusa Io ho detto la mia teoria Non so come funziona Cioè Io Non è che Se sei un player forte esci col centering sul nemico che hai visto Non sul nemico dietro Infatti era lì Cioè l'avevo vicino Poi si è bloccata la visuale Che devo dire Poi sono andato subito col mirino su lui A me non mi si è mai bloccato la visuale Lì In realtà In realtà sono due cose che puoi fare Negare O O dire la verità Io nego perché non l'ho mai citato Non l'ho mai fatto Non lo farò mai Eh Sono due cose che devi fare Stai facendo una delle due Quindi Leo io spero per te Che Vortex Viene qua Io ho più No sicuramente no Ma perché Io ho più di dimostrare Più di dimostrare Ma scusa Ma magari Vortex dice Magari Vortex Grazie Se mi difende Lo ringrazio Spero eh Mi piace pubblicamente Spero Penso io però Perché non penso Io comunque A me dispiace Perché secondo me Sei anche un bravo ragazzo Perché giocare da console Scusami Perché questa cosa da console Perché su console Non esistono Non c'è niente o no Come fai a non sapere Come fai a non sapere Zì 13 anni di console Non le so Io non so niente Come fai a non sapere niente Non sai che il collo Non è testa Non sai come ti entro Nei colpi Non sai Non sai che non ci sono Che ci sono i cheat Non sto parlando Ma perché cambi discorso Voglio capire Ma non cambio Ma perché mi dici sempre Che non lo so Perché dici che no Perché È una scusa Ti ho chiesto Perché vuoi passare a console Tu mi dici che non ci sono cheat È sbagliato Vuoi vedere che sono pulito Ma se sono pure là E cheat Io non so niente Non ne capisco niente Di cheat Sei tu quello che capisci Io no Appunto Sei io quello che capisco Ti dico che tu usi Usi Silent Take un minimo Ti faccio vedere anche La carta di credito Faccio vedere tutti i pagamenti Faccio vedere tutto Non è un problema Per noi Faccio Faccio di tutto Non mi interessa Ti farò vedere tutto Per dimostrare che io non cito E non mi è mai interessato Cittare su un gioco gratis Vabbè Potevi pagare con la carta Della tua mamma Che ti devo dire Non ho solo la carta di mia mamma O la mia Mi devo fidare di te Basta Dici questo Cioè io mi devo fidare di te Basta Io mi devo fidare di te Io devo lasciare Fai venire No Devo lasciare tutto sta roba Devo lasciare qua Mi devo fregare nulla Devo lasciare questa community Andare avanti così da sola Con i fenomeni Come te Dentro Così Proprio lasciarla stare Perché Io vengo attaccato Semplicemente Vuoi che vada a prendere Vuoi che vada a prendere L'Xbox Dalla Dalla camera E mettere la console Qui a giocare Ora Io Non è un problema per me Io vengo pure attaccato Perché semplicemente Faccio vedere Le clip Dei altri Ma non sto dicendo nulla Ma infatti Ok ok Va bene È il tuo È il tuo Cioè quindi Che ti devo dire Ma questo è il dramma Che serve La community Semplicemente Perché questo è il dramma In pare Sto dicendo che io non ho niente E voglio dimostrartelo Ma non sai neanche tu Come sono uscite queste cose Ma non sai Non lo so neanche io Perché non lo so neanche tu Appunto Io lo so Io lo so bene Io lo so tu Ma io non ho Silent Time Ma è quello il problema È ma Non mi posso fidare Capisce È come andare Non lo so Non posso fidarmi così Se vuoi la vado a prendere Non ci metto niente Ho lo scatolo qua Lo vado a prendere Ti faccio vedere Ti faccio le stesse Ti farò vedere Ti farò vedere Che faccio le stesse identiche cose Perché mi hai dato Delle giustificazioni Di alcune meccaniche Che sono teoriche Che non esistono Cioè Mi viene da dire Proprio che non Cioè Nemmeno tu sai Neanche te Come hai fatto a fare Cioè Se anche tu fossi legit Non sai nemmeno tu Come hai fatto a fare quelle cose Perché? Perché meccanicamente Non riuscire a Io mi sono rovinato Perché il gioco Non ti permetterebbe di farlo È questo il vero Punto importante Ok Sul quale secondo me Hai probabilmente sbagliato Non lo so Vabbè Però Se Se Cioè Te l'ho già detto Se 2 più 2 fa 4 Non gli puoi dire che fa 5 Secondo me Non esiste Secondo me C'è qualcosa sotto Eh le clip Non lo so Le abbiamo fatte con un altro account Eh Vuoi Vuoi che ti fai Te l'ho detto Io Mi faccio controllare il pc Farò di tutto Non mi interessa Lo faccio anche in live adesso Sono già in live Non mi interessa Perché accendo il pc E faccio entrare qualcuno Che ne capisce Mi faccio controllare il pc E Vado a vedere che non ho niente E faccio le stesse Identiche cose Senza Senza niente E poi parlate Voglio sentire Lo faccio Non mi interessa Lo pago pure Non mi interessa Leo puoi dire Cioè c'è libertà di parole Non ti stiamo attaccando Però stai dicendo la stessa cosa Sempre È la stessa cosa Perché voglio dimostrarlo E punto Se io ti dimostro Un'altra clip Di qualcun altro Che fa Delle kill Tu sicuramente Mi dirai Un secondo Io vado Che ho Che ho fatto Niente Mi dispiace Vuoi controllarmi il pc Mi dispiace anche me Cioè mi dispiace anche me Vuoi controllarmi il pc Con team viewer Che vuoi fai Non mi interessa Io parlo di tutto Io ragazzi Vi saluto davvero Vi ringrazio di cuore Grazie Caio per avermi dato l'opportunità Di parlare E Niente Ciao Vi saluto Vi lascio Ciao ragazzi Ciao Ciao Ben finito Cleo Mi dispiace per te Mi dispiace Spero che Tanto Io lo so Come si divide Le cose Tanto alcuni Penseranno Che Vabbè Caio è un idiota Un coglione Che non l'ha fatto giocare Falli Falli fare le cose Ma io ci gioco Videogames Da cinque anni Per me Far vedere All'altro che gioca Tanto lui lo farà vedere Non è che devo fare qua Quello che devono fare Che vogliono fare Altri player Tanto tu Continuerai a fare Il tuo E io continuerò a fare Il mio Non cambia nulla Perché su questo gioco Purtroppo Sì ma comunque Io mi sto mettendo Ti sto mettendo Tutto me stesso Per far vedere Che non ho nulla Ma a me non importa Di cose che devo fare Ma non voglio andare in fondo E perché non ti importa Voglio sapere Perché non stai dando spiegazioni Perché non sai neanche spiegare Che ci devo dare Che ti devo dare Che ci devo dire Non mi devi dire nulla Per me non importa Io te lo sto dicendo Faccio le stesse identiche cose Fidati Non importa Io sto facendo solamente Perché non dovrebbe importare Scusa Io sto Semplicemente Faccio vedere Alle persone Nelle clip Poi loro Se vogliono vederti giocare Che tipo tu Fai provare Andranno a vedere Giocare Ma io non l'ho mai citato Non l'ho mai fatto E quel è il problema Eh il problema Non l'ho mai fatto Non l'ho mai fatto Non l'ho mai fatto Cazzo E come mai la differenza Tra uno che usa Silent E te Non c'è No Io non l'ho mai esata E punto Ci dobbiamo fidare ragazzi Quindi vado dei collateral Ad esempio Di un mese fa O non ne faccio più Secondo me la situazione Perché non vado là A fare i cotorni Perché non cito là E fado a fare i soldi facili Metto monitor cam Faccio di tutto Per non far vedere che cito Anzi voglio la community pulita Il gioco pulito Perché dovrei citare Sentiamo dai Io ti devo rispondere Perché tu Non vai a fare collateral A te ti hanno accusato Al collateral Naptics Naptics Sì Se vado io Nella chat Adesso di collateral Trovo le tue risposte Da ego player Che gli rispondevi Che se tu sei Migliore di lui E c'è il pollice Che si muove meglio Di loro Ai pro players Capito Le rispondevi così Voglio che faccia vedere Questa cosa Cosa ok C'è ci sono lì Su discord Cioè ti pare che Non l'ho visto caro Io quando analizzo Una persona Analizzo anche La cronologia lì Che torni a fatto Cosa ha scritto Ok ok Senaptics Ti scrive Che la tua Mirastita È strana Zio E per lui Cittavi Pure non so Quante settimane fa E tu gli rispondi No il mio pollice È meglio del tuo Cos'è Che ti devo dire Magari Te ne hanno sgamato lì E hai detto No non faccio mai Mai più i tornai Con i europei No No Non li ho fatti In realtà Non li ho fatti più Perché sai com'è la situazione Dei cheater Sui collater Non ne frega niente Controla niente Sono d'accordo Quindi non lo faccio Perché non voglio Fattarmi i soldi E non voglio essere preso Per il culo Guarda ti dico Stare Marco un attimo Che vuole Vuole analizzare il movement Di Leonida Che Marco Che ti dirà Marco un altro paddaro Guarda Un altro paddaro Top players in Italia Beh raga Innanzitutto buongiorno No volevo dire solo una cosa Leonida A parte che Secondo me di base Sei un buon player Hai un bel movement Però La cosa che mi fa strano È che come te Tanti altri no Nascono in brevissimo tempo Così Eh Vabbè Ti va la parla Eh no 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 Dimmi 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 pure No no Eh io Giocavo A 100 di ping Con una connessione Che non lo dico Ne ha uno duplo ad Ok ok Ma come Perché io comunque Caipro che lo seguo Lo conosco e tutto Come te Molti altri Dite le stesse cose Te lo giuro E Una cosa Cioè alla fine Non puoi nascondere l'evidenza Tu spari ai piedi Ok Come fai a fare Cioè ci sta il desync Come diceva Predax prima Ma non puoi dire E Cagorg Io non lo so Cioè Un conto e dici Io ho sparato al collo E dici Vabbè Un gioco di merda Però bro Se spari ai piedi È letteralmente Come è successo Alle scale di prison Hai sparato alle scale E l'hai preso praticamente In faccia Time to kill in esistente Uno come fa A capire che sei legito Ma allora qui Marco ti sto dicendo La mia Qui secondo me È giusto dubitare Dubitare è giusto Però accusare Senza nessuna prova Tipo io la prova La voglio dare Come nessuna prova bro La prova La voglio dare Facendo vedere il pc E far vedere Che faccio le stesse identiche cose Ok 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 Ma tu Io bro Sto seguendo la live Da un'ora e mezza Tranquillo tranquillo A me scoccia Che magari sai cosa Uno mi rovina il torneo Perché Mi ha tirato appunto Una cittata Cosa che Io te lo dico Io non ho peli sulla lingua Io ero molto scettico Nell'ultimo No Nell'ultimo torneo Ok ok L'ultimo torneo Ero molto scettico L'ultimo torneo Ero molto scettico No 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 Io non ho mai giocato con lui Mai giocato contro No no come no Contro Nella kill race Infatti ho detto Infatti ho detto a ste Minchia Perché Vabbè una volta Mi hai pusciato Quando avevo una piastra in meno Ho detto Ok Però ti ho fatto Un negocial Senza mi starti un colpo Tu hai sparato un po' a storto E mi hai ucciso No stava anche l'amico Dietro a sparare No bro No 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 Mi ricordo Lui era preso nelle scale E tu mi hai pusciato Dopo la porta Quindi lui era C'è C'era un muro davanti Non poteva vedermi Eri solo te contro di me Avevo una piastra in meno Sì 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 Ritrovo la clip Te la faccio vedere Mi sa che l'ho vista pure L'hai vista Kyborg Io letteralmente Body Tre giorni fatti Cioè Io ho sparato tutto al body Letteralmente Lui mi ha ucciso Aveva una piastra in meno Ma non meritavi quel fight Time to kill assurdo Capito E quello Il time to kill ti fa pensare E da lì Ho iniziato A aumentare la mia scetticità Nei tuoi confronti Ok Sì vabbè Ma è giusto dubitare Bro Va bene Ma io Bro non ho mai nominato Te in live Mi hanno detto Ho detto c'è suo Leonida Fa 45 Chi l'ha partita Ho detto Boh fra un animale Cercherò di migliorare E arrivare ai suoi livelli Io elogio tutti I Kyborg Sì 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 Possono Io non ho invidia Ti conosco Siamo bravo ragazzi Ti conosco Ti seguo pure Non ho invidia per nessuno Non ho invidia per nessuno Perché come te Io lavoro Faccio tutto A me frega Di discreditare gli altri Anche perché Per molti è il loro lavoro Base Lo streaming Quindi mi sarebbe una scorrettezza Nel loro confronto Quindi è per quello che ti dico Davanti a un pubblico Ora di 2000 persone In Kyborg Vedono sti clip Io non me ne sarei mai accorto Loro ne hanno studiate Cosa Bro è impossibile negare Che c'è qualcosa di strano Tu stai ripetendo le stesse cose E dici Ora voglio dimostrare Ma ormai la cazzata l'hai fatta bro Vuoi o non vuoi È impossibile dire che non citti Capito Te lo dico da amico quasi Non Ti conosco Sai qual è il problema Che ci sono state case Dove abbiamo controllato il pc Per esempio Al Al sun Abbiamo controllato il sun Cioè sono entrato su discord No Come siamo noi adesso E mi faceva vedere Sul discord Il suo desktop E gli dicevo cosa cliccare No Cosa cliccare E sul desktop C'era Macros Il No recoil C'era l'auto ping E diversi Diverse Le cose così piccole Per il mouse Per tastiera Per No recoil No E mi diceva Mi ha aperto Mi apriva le cartelle diverse Dove c'erano cheat diversi Perché sono cheat Sono aiutini No Sono aiutini E mi diceva No questo non è un cheat Perché lo usano tutti Capito C'è la stessa cosa Adesso se entro E trovo Non so Un esempio Un cronos Leonida E fallo E magari mi dice Non te lo vieto Non te lo vieto Anzi fallo Ascolti Ti pago pure per farlo Non mi interessa Io farò di tutto Te l'ho detto Io ti dico La mia esperienza Con queste cose Te le sto raccontando Che uno Può negare Anche se li fai vedere Davanti La foto Dove sta lì Connette Installa i cheat Capito? Cioè Negherà Fino alla fine Se uno inizia A negare Giuro Se Ci sono stati I ragazzi Che all'inizio Hanno detto subito Che sì A me mi dispiace Sì Ho usato Una volta Scusami Tipo Chi si ricorda Di Del John Rambo Quello lì Che è diventato un meme Che diceva Che urlava Armando Armando Non se lo ricorda nessuno Perché lui In privato Mi ha scritto Scusa Cabro Si li ho usati Basta Non ho fatto neanche Drama su questo Mi interessa Ma mi interessa Proprio l'onestà Delle persone Se uno nega Nega fino alla fine Per quello Escono Con quelle che negono Escono a discussioni Un po' più lunghe Perché tanto Tu le dici la sua Lui le dice No non ho citato Tu le fai vedere Le clip No non ho citato Fai vedere Opinione dei altri Anche Non ho citato Per quello È lunga sta roba Con quelle che negano Tutto qua Questo volevo dire Poi se mi permetto Kyborg È sempre un processore Sai cosa Anche magari a parole Non so se sei bravo Capito Però tu Hai detto Finisco Ok ok Però tu dici Io ho ascoltato bene Appunto per cercare di capire Magari anche Di coprirti Perché ripeto A me come di base Se ti guardo così Magari live Dico Bravo Sa giocare Per carità di Dio Però tu hai detto Faccio 8 ore al giorno di lavoro Però prima ancora hai detto Che ti alleni 3 ore al giorno Zan Kyborg Sì 3 Dipende Ok 2-3 ore al giorno Con 3 botte su shipment Però tu ora fai Io lavoro 8 ore al giorno Cioè tu hai il tempo di Non è che voglio farmi La tua vita privata Figurati Però è un accumulo di cose Cazzate scusami Che non fanno credere Come Predax Infatti Si sta incazzando Tu come fai Dopo 8 ore al giorno 3 ore con 3 botte Capito 2-2 1 ora 1 ora e mezza Dipende Perché dipende De quanto Tu prima hai detto 3 ore al giorno Letteralmente Non è che faccio 3 ore di fila Faccio 1 ora Poi quando stacco Ne faccio un'altra Poi dipende Faccio una mezzoretta Un quarto d'ora Dipende Vabbè Quello volevo Non sei molto credibile Da quello che dici Come ha detto Vabbè Ma è ormai Tanto La mia reputazione È andata A fanculo Ma te l'hai rovinato Te le oce Non lo ha mai rovinato Non vuole rovinare La reputazione Ma se Per Kyborg è un lavoro Lo streamer Cioè capito Io lo so Lo so Se vedi queste cose Volevo Volevo farlo anche io La stessa cosa È successa anche l'altra volta Che uno mi diceva Controlla il mio pc Controlla il mio pc Ma in realtà Cioè L'ho spiegato Raga Cioè l'ho spiegato mille volte Perché no Perché sì Perché no Perché sì Non mi dite Che così Cadi Cai Ti stai rovinando Che Secondo me Tu non hai ragione Non dovete guardare Le cose personali Non dovete guardare Come sono io Sono passati Cinque giorni Ragazzi Cosa posso controllare Il pc Sono passati Cinque giorni In cui lui è stato accusato Cinque giorni fa Ha smesso di streamare Per quattro giorni È sparito Dai radari Cioè è sparito Per quattro giorni È tornato ieri E io lo devo controllare Il pc E io lo devo controllare Cioè è Grazie.